shalom 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 eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio lodare ringraziare e dare tutto il dovuto al padre yahwah nel nome di suo figlio il nostro re rendentore salvatore yahwah shai miei doppi onori ai apostoli anziani della great mio stompe avermi insegnato questa verità e come sempre pace alla casa di israele a coloro che cercano la verità con sincerità il titolo di questo di questa lezione sarà arriva la fame della verità e si è in arrivo la fame della verità arriverà il momento in cui la verità non si troverà più ok ci sarà la fame della verità ed è tutto scritto nelle scritture ed è la forza di yahwah bahashem che vuol dire nel nome ok yahwah shai ok yahwah bahashem yahwah shai dalla forza sua spero di riuscire a farvelo vedere e aprirvi gli occhi prima di iniziare comunque volevo dire che un paio di giorni fa è successo che su youtube c'è stata una sorta di lockdown non lo so per quanto tempo perché io non sono stato su facebook scusatemi su youtube non sono stato su youtube quel giorno da perciò non non so cosa è successo ma ho visto e ho sentito da altri tanti fratelli che youtube ha avuto una sorta di problemi problema che hanno dovuto chiudere youtube non so per quante ore non dico questo perché youtube è una grande fonte della verità ok si va bene che è pieno di cavolate che è pieno di diverse cose ma da qui è più facile trovare la verità ci sono tantissimi fratelli della great millstone che stanno spargendo questo messaggio della verità in diverse lingue in diversi paesi e la fonte che usiamo è questo youtube infatti abbiamo visto che più che buttiamo fuori i messaggi a parte che hanno censurato tantissimi fratelli della great millstone hanno chiuso tante pagine e comunque nonostante tutto questo noi continuiamo sempre a fare il lavoro del nostro salvatore che è quello di portare a tutti gli angoli della terra questa verità ok e il padre ha dato questa conoscenza di internet a noi affinché possiamo utilizzarlo per far spargere la verità dappertutto comunque vi dico che arriverà il tempo in cui questi non saranno nemmeno più disponibili la verità non si troverà e tanto per farvi capire in che tempi siamo che siamo quasi in quei tempi leggiamo da questo libro che vediamo qui davanti libro di apocalisse ok e da capitolo 7 e leggo da versetto 1 che dice dopo questo vedi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti dalla terra perché non soffiassero sulla terra che cosa sono questi quattro venti allora questi angeli trattenevano questi quattro venti dalla terra ok volevano mollare questi quattro venti affinché soffiassero sulla terra e questi venti sono la distruzione nucleare ok come vi avevo spiegato come vi avevo spiegato nei video precedenti guardate ok il mondo sarà distrutto attraverso delle bombe nucleare non è tutto il mondo che verrà distrutto ma questo regno soprattutto babilonia che america sarà distrutto quando parlo di questo mondo ok si intende questo regno e si intende i capi di questo regno che è america insieme con tutti i suoi complici ok paese nato ok e la razza caucaso caucaso ok ma soprattutto america sarà distrutto da le bombe nucleare infatti se guardate su di giornale vedrete che americani ce l'hanno su con i cinesi i cinesi che sono immobili sono già pronti con i missili la sono pronti per qualsiasi cosa contro america la stessa cosa è la russia e la russia e insieme con iran era che quei paesi la e si sono formati tutti insieme e si stanno rendendo conto di tutto l'atrocità dell'america che è la babilonia ok e il padre userà loro stessi per distruggersi ok ecco perché sono sempre a spendere i bilanci dello stato sulla difesa a rafforzare i militari ok tutti questi paesi andranno contro america poi e questo sarà la terza guerra mondiale ok in mezzo a questa artezza guerra mondiale tornerà il figlio del padre che è yahawashai e lui verrà con i suoi cari i suoi cari sono i cosiddetti ufo ok abbiamo fatto già un video in passato andate a vedere non si titola i cari del padre e i ufo sono i cari del padre ok per capirne di più e lì ho tirato fuori anche dei versetti per appoggiare a questo a questo fatto qui allora queste saranno questo sarà un'altra lezione da fare da andare proprio più a più profondità comunque abbiate in mente che quando arriveranno questi cari del padre faranno la distruzione finale ok distruggeranno i malvagi e due terzi della casa di israele saranno anche distrutti ok e continuiamo a leggere anzi inizio dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti dalla terra perché non soffiassero sulla terra né sopra i mari né sugli alberi poi vedi un altro angelo che saliva dal sol levante il quale aveva il sigillo del padre yahweh vivente ok e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare avete visto i venti la che trattenevano erano per danneggiare la terra e il mare dicendo non danneggiare la terra né i mari né gli alberi affinché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro padre yahweh ok e quale questo sigillo è il nome vero del padre yahweh il nome del suo figlio yahweh e la conoscenza di questa verità coloro che anzi continuiamo a leggere e udì numeri di coloro che furono segnati con il sigillo cento quarantaquattromila segnati di tutte le tribù dei figli di israele avete visto e qui se continuate a leggere vedrete che da ogni tribù ne ha scelto ne ha scelto dodici mila ok perciò della tribù di giuda dodici segnati della tribù di ruben 12.000 segnati della tribù di ascia 12.000 e così va avanti e io vi dico il motivo perché vi ho letto questo verso è per farvi sapere che siamo già quasi tutti segnati ok perché il padre si sta già svegliando i suoi ok e sono cento quarantaquattromila ok sono gli eletti che comanderanno a fianco il nostro salvatore yahawashai quando torna yahawabashem yahawashai volendo anch'io sarò parte di quei numeri ok questa è la mia fede questa prego ogni giorno al padre affinché possa contarmi con questi e in più se continuate a leggere vedrete che a parte questi cento quarantaquattromila che saranno con loro a giudicare il nuovo nel nuovo regno ok con yahawashai ci saranno salvati anche un quarto della casa di israele ok ok e andiamo avanti io ho letto questo per farvi vedere appunto che siamo quasi in quel momento perciò quando sono completi questi numeri cento quarantaquattromila stop il padre dice stop ora potete distruggere la terra ok e la sua distruzione verrà veloce e così tutto in un colpo che la gente rimarrà tipo ok perciò ora noi stiamo spargendo questa verità tanti ci prendono in giro tanti sono cerchi non vedono perché non capiscono e cercano di sviare altri che cercano la verità ok comunque come ho sempre detto nei video questa verità non è data a tutti è dato a pochi e quei pochi sentiranno il messaggio lo accetteranno e faranno quello che devono fare per salvarsi ok ora andiamo a leggere dal libro di amos capitolo 8 che vi sto stavo dicendo che arriva il momento in cui noi non potremmo più insegnarvi questa questa verità ok perché i figli di Esau che sono la mano sinistra del padre in lavoro ci impedirà di insegnare chiuderà tutti i canali in cui la verità va in giro e chiuderà anche la nostra bocca la gente cercherà la verità in quei giorni e non li troverà nemmeno ok allora andiamo a leggere da questo libro di amos capitolo 8 iniziamo da versetto 10 che dice trasformerò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento e questo sta avvenendo a breve ok con tutto questo lockdown qui di solito i figli di Esau e due terzi della casa di Israele ok festeggiano 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 questi natali queste feste ma ora non si potrebbe nemmeno festeggiarli bene perché sarete chiusi ok e prima o poi arriva anche il vaccino che vi rovinerà la dna e poi farvi prendere il microchip ok che è la finale ok trasformerò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento coprirò di sacchi tutti i fianchi e ogni testa sarà rassa il paese piomberà nel lutto come quando muore un figlio unico la sua fine sarà come un giorno d'amarezza ok questo è il punto ecco vengono i giorni ecco vengono i giorni dice il signore Yahweh in cui io manderò la fame nel paese non fame di pane o sete d'acqua ma la fame è la sete di ascoltare la parola del signore avete visto il padre manderà la fame ok la fame di ascoltare la parola del signore ok perciò ora noi vi stiamo dando queste parole questa verità tanti sono la che non hanno deciso ancora tanti prendono in giro tanti boh lo lasciano così e ci vedono come dei sfigati perdonate il mio francesismo ok ma attenzione che arriva il giorno che non saranno più disponibili ok continuiamo allora vagando da un mare all'altro da settentrione a levante correranno qua e là in cerca della parola del signore ma non la troveranno quei giorni di belle ragazze i giovani verranno meno per la sete ok avete visto quei giorni arrivano andranno là e qua settentrione e rappertutto andranno in cerca di questa verità perché coloro che avranno sentito qualche volta di questa verità questa verità subito ti lascia un impatto poi dipende dalla persona alcuni ignorano poi cominceranno a dire perché comincerete a vedere tutte queste cose che abbiamo parlato ok tutte queste cose del microchip e tutto cominceranno a succedere tutto e direte oh abbiamo sentito questa cosa poi aspetta che vado a cercare quei quelli là ma non ci troverete più ok e leggo dal libro di scusatemi boh ce ne sono tanti libri da leggere qui ma non voglio nemmeno tenere troppo lungo questa lezione leggo dal libro di Ezechiele 33 il versetto 33 che dice ma quando la cosa avverrà ed ecco che sta per avvenire essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta avete capito? ma quando la cosa avverrà ed ecco che sta per avvenire essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta quando queste cose che noi vistiamo noi della Great New Stone attraverso il potere del padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai quando cominceranno ad accadere queste cose quei giorni vi ricorderete che ah queste lo hanno detto e saprete che davvero siamo dei veri profeti ok perciò svegliatevi figli di Israele perché i figli di Israele hanno il colo rigido ok i figli di Israele non ascoltano e ora che hanno ancora la libertà di cercare questa verità vi conviene anzi il mio consiglio a coloro che si interessano davvero in questi messaggi che sto tirando fuori attraverso la forza del padre Yahweh Bo Hashem Yahweh Shai registrate questi video ok scaricateli metteteli a parte perché arriva il giorno in cui non li avrete più ok tutto sarà censurato ok infatti stanno chiamando usano certi termini hate speech e diversi altri termini ok se tu noi quando diciamo la verità adesso lo classificano come hate speech ok e arrivano questi tempi in cui sarà tutto censurato perciò conviene cercarlo adesso mentre lo si può ancora trovare ok leggo dal libro di Isaia libro di Isaia 33 6 che dice i tuoi giorni saranno resi sicuri la saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione il timore del Signore è il suo tesoro di Sion ok questo è molto profondo i nostri giorni sono una ricchezza di liberazione quando non avremo più accesso a certe cose quale sarà il nostro conforto è questa conoscenza qui la conoscenza sono una ricchezza di liberazione ok e come si fa ad ottenere questa conoscenza avere il timore del Signore Yahweh ok leggo sempre da questo libro di Isaia infatti il padre ha messo questo libro che nessuna chiesa è capace di insegnarlo perché hanno gli occhi chiusi quando arriva questo libro qua perché il profeta Isaia parlava di questo futuro questi tempi che stiamo vivendo adesso e il padre gli ha chiuso gli occhi affinché loro non riescono a capirlo ok Isaia 55 6 cercate il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino cercate il Signore mentre lo si può trovare perché c'è scritto questo se il padre c'è sempre se è creatore perché c'è scritto cercate il Signore Yahweh mentre lo si può trovare perché invocatelo mentre è vicino perché ora avete ancora la libertà di tutto potete andare direttamente su Youtube e troverete questa verità dai diversi fratelli di Great Millstone anche in spagnolo in tedesco in francese arriva il tempo in cui veremo tutti bloccati e non potremo più avere l'accesso a questo perciò preparatevi ok e condivido questo ultimo versetto poi chiudo sempre dal libro di Isaia 34 versetto 16 cercate nel libro del Signore e leggete nessuna di quelle bestie vi mancherà nessuna sarà privata dalla sua compagna poiché la sua bocca l'ha comandato e il suo soffio li radunerà andiamo a vedere un'altra versione e leggiamo questa qui 34 16 cercate nel libro del Signore e leggete ok questo è il punto la conoscenza è nel libro del Padre Yahweh ok perciò cercatelo ora ok noi siamo qui per far spargere il messaggio questo è il messaggio del Padre Yahweh Hashem Yahweh queste cose quando verranno inizieranno ad avvenire allora saprete che ci sono stati dei profeti tra voi ok ma cercatelo ora mentre lo si può trovare prima che arrivano i giorni bui ok ricordatevi che c'è un nuovo mondo un nuovo ordine mondiale che i figli di Esau stanno costruendo e diciamo che stanno lavorando attraverso la mano sinistra del Padre e ci sono quasi ok detto questo spero che siete stati edificati ok e spero che almeno avete imparato qualcosa e lascio tutto questo nel sacro nome del Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai ok Shalom alla prossima Shalom Shalom